Pensi davvero che sia una buona idea Stare seduti in un bar fino alle 9 di sera Ciao, sono Gilberto, il cognome non c'è neanche bisogno di dirlo perché Goglio, Alpette, Metà Paese si chiama Goglio Seguo il turismo per i comuni d'Alpette, sono delegato al turismo e collaboro con ARF dal 2009 quando siamo stati eletti Quindi prima edizione e siamo finiti subito a botta con il Rock Festival perché siamo stati eletti a giugno e subito a lavorare con il Rock Festival Mi lega al festival il fatto di essere di Alpette, il fatto di aver visto praticamente tutto dalle prime edizioni e vedere come è nato E particolarmente la cosa più bella del festival è il fatto di portare della musica di alta qualità in un paese di 300 persone Il fatto di vedere magari a mezzanotte o alle 11 di sera bambini di due anni nello stesso campo assieme a gente che magari ha 30 anni oppure a quelli che sembrano punk più spietati e tutti vanno d'accordissimo ARF è un bel evento musicale gratuito che è riuscito a integrarsi nella vita di un paese Lo vedo continuare e crescere sempre di più, diventare un evento che sta in piedi da solo senza bisogno di grandi nomi e soprattutto integrarsi sempre di più nella vita del paese Grazie a tutti